Buonasera a lei e buonasera a lei. Abbiamo molti argomenti da trattare anche perché nonostante il lockdown o comunque l'isolamento che forse è meglio usare parole italiane, voi avete continuato sempre a lavorare e portare avanti alcuni progetti, li rivediamo molto velocemente. Avete un impegno molto importante a Quantin? A Quantin di Ponte delle Alpi abbiamo demolito le ex scuole elementari e abbiamo costruito 5 alloggi, 3 al piano terra di piccola media metratura da 1 o 2 camere l'1, mentre al piano superiore 2 alloggi in duplex con 3 camere l'1 e doppi servizi. Immagino che questi edifici siano costruiti secondo dettami di risparmio energetico molto avanzati come ormai vostra tradizione. Sì, noi puntiamo molto sul risparmio energetico anche perché ci siamo resi conto che l'amorosità dei nostri inquilini non è data tanto dalla difficoltà nel pagare il canone, ma piuttosto nella difficoltà nel pagare le spese di gestione. E questo edificio in particolare è costruito con un'intelaiatura in cemento armato e i muri in legno proprio per... Sì, poi vediamo anche delle immagini, è particolarmente bello anche e soprattutto inserito nel contesto, che è un'altra valutazione che viene sempre fatta. Sì, noi cerchiamo sempre di inserire i nostri edifici nel contesto in cui si trovano e anche dal punto di vista architettonico soprattutto, valutiamo bene anche il colore e anche tutte le opere accessorie. Peraltro la zona è bellissima, è una delle bellissime frazioni che si trovano sui coi de pera, come dice il sindaco Colai Aperta, di Ponte nelle Alpi. L'altro intervento, questo vi ha riservato una gradevole sorpresa, ma poi per chi costruisce qualche impegno in più, che è Palazzo Livotto in centro Belluno. Proseguono i lavori anche appunto in via Duomo, sono iniziati nell'ottobre del 2019 e questo è un palazzo storico che abbiamo ricevuto dal comune di Belluno. Lì realizzeremo sei appartamenti, da una, due o tre camere e al piano terra ci sarà posto anche per due piccoli uffici, uno da destinare al comune e l'altro all'Ater per ragioni istituzionali. Avevo parlato di una sorpresa. Sì, durante i primi scavi abbiamo ritrovato dei reperti archeologici risalenti all'epoca romana e adesso ovviamente questi reperti sono stati impacchettati e verranno inviati alla soprintendenza per essere datati. Sì, c'è da dire che quando vengono fatti questi ritrovamenti, là dove è possibile togliere, si toglie, altrimenti comunque si fotografa la situazione e fa parte della memoria storica della città. I lavori qui pensate che possono andare avanti adesso abbastanza celermente? Attualmente lo stato di avanzamento dei lavori è del 15%, sono stati rallentati a causa dell'emergenza epidemiologica e prevediamo che non saranno terminati prima della seconda metà del 2021. Abbiamo visto qualche immagine che lei cortesemente ci ha portato, anche i solai devono essere trattati in modo particolare perché è legno che deve essere mantenuto, sono tutti degli aggravi di tempo e di costi non da poco. Sì, in collaborazione con la soprintendenza abbiamo deciso di mantenere tutto quello che possiamo inalterato. È bellissimo che queste foto restituiscono la bellezza e il fascino di questo stabile. Poi andando in tutt'altra, come si può dire, modo di costruire se non mi viene la parola corretta, andiamo al piano urbano di Visome. Come si chiama il PUA? Piano urbano? Piano urbanistico attuativo, Nuova Visome. Sì, lì c'è stato un articolato percorso. Anche era di acquisizione dei terreni, no? Sì, sì. Ora c'è stato un frazionamento dei terreni e una ricomposizione fondiaria e adesso siamo pronti per stipulare appunto la convenzione urbanistica. Saremo pronti poi per la progettazione esecutiva che avrà avvio nel mese di settembre-ottobre di quest'anno e anche la progettazione di un edificio ATER, dei 12 appartamenti, dove ci sarà anche uno studio medico. Il costo dell'opera sarà di 2 milioni di euro, di cui un milione finanziato dalla Regione Veneto. E però potrebbe non fermarsi qui? Sì, c'è la possibilità di costruire una palazzina gemella, però attualmente non abbiamo i soldi per poterla costruire, per cui rimane congelato. Comunque anche qua vediamo il progetto in un'area particolarmente appetibile perché è vicino a tutte le vie di comunicazione. Ci spostiamo a Mas di Sedico e qui interventi presso la ex scuola. Sì, abbiamo acquistato l'ex scuola di Mas di Sedico, anche queste verranno demolite e al loro posto costruiremo 5 alloggi di edilizia residenziale pubblica. I lavori qui sono già partiti? No, i lavori sono previsti probabilmente per il prossimo anno, sono inseriti nel piano triennale 2020-2022. E anche qui come si vede, si evince nelle fotografie, è in centro del paese, anche questa è una località, come si dice, amena, simpatica e gioiosa. Quanti sono gli appartamenti che avete? Attualmente il parco appartamenti dell'Ater è costituito da 1.800 alloggi, di cui 1.600 di edilizia residenziale pubblica. Poi abbiamo negozi, box auto per un totale di 2.100 unità. Sì, facendo i calcoli, la popolazione di Belluno, tenendo conto che ognuno abbia a disposizione l'1%, non è male, è tanto, è un patrimonio importante questo. Sì, sicuramente meno rispetto alle altre province del Veneto, però per Belluno, diciamo, noi abbiamo costruito poco, però abbiamo sempre cercato di mantenere in efficienza il nostro patrimonio. E soprattutto il recupero che fa parte di questa politica, la quale saremo costretti negli anni a venire, perché entro il 2050 ci sarà la soluzione di consumo del terreno zero, quindi meglio prepararsi. Sì, infatti noi abbiamo fatto una ricognizione a partire dal 2016 del nostro patrimonio e dal punto di vista energetico. Abbiamo già riqualificato 300 appartamenti per una spesa totale di 1.650.000 euro. Ne stiamo riqualificando attualmente altri 100 per una spesa di 1 milione di euro e abbiamo in previsione di riqualificarne altri 67 per una spesa di 1.700.000 euro circa. Non è molto facile capire la vostra attività, anche perché lei continua a dire investiamo, investiamo, però i soldi da qualche parte devono arrivare. E uno dei sistemi è quello di smobilizzare un po' il vostro patrimonio. Operazione che avete fatto lo scorso anno o ancora prima? Il piano di vendita è partito nel 2012, si è concluso all'inizio di quest'anno. Aveva interessato circa 500 alloggi in tutta la provincia. Subito si sono dimostrati interessati 88 inquilini. Infine poi sono stati perfezionati 35 contratti di vendita. Il prezzo medio di vendita di ogni appartamento è stato di 70.500 euro. Siamo partiti, ovviamente come diceva la legge, dal prezzo di mercato e questo è stato abbattuto del 25% oppure del 35% oppure del 45% in base al reddito del nucleo familiare. E sono sparsi queste proprietà? Un po' in tutta la provincia. Mi sembrano poche, neanche 100 persone che facciano richiesta con il desiderio di case che c'è, a parte che in provincia dell'Uno c'è il mal del maton, che è un classico. Se vi senti dato una spiegazione su questo? Diciamo che i nostri inquilini erano stati abituati ad acquistare le case a prezzi molto bassi. Io ho visto prezzi di vendita di 10.000 euro anche. Per cui in questo caso il prezzo era molto alto e noi pensiamo sia per questa ragione che non hanno aderito. Questi 500 tornano in vendita o vengono ritirati? Attualmente non ci sono altri piani di vendita per cui le persone che hanno titolo per rimanere nelle nostre case rimangono all'interno degli appartamenti ed eventualmente vengono affittati ad altre famiglie. A proposito di chi ha titolo per rimanere all'interno di queste case, era partita la nuova legge lo scorso anno sui nuovi canoni e soprattutto sulla valutazione di chi può stare all'interno e chi no in base a un indice particolare. È passato un anno e pare che entro due anni devono essere liberati quegli appartamenti che non possano essere tenuti per questi parametri economici. Come sta andando avanti? Aveva suscitato qualche polemica in regione più che altro, ogni tanto in provincia? Sì, in provincia non ci sono stati grossi problemi, mentre in altre province del Veneto sì. Diciamo che c'è stata una prima entrata in vigore della legge 39 il 1 luglio, che è stata poi modificata nel corso del mese di dicembre. Il canone minimo è passato da 10,88 euro al mese a 40 euro mensili. Sì, non si fa più riferimento al reddito del nucleo familiare, ma ci si riferisce all'ISEERP, quindi l'ISE parametrato. Per poter accettare... L'ISE parametrato è che non è che si guarda solamente quello che uno prende, ma anche le proprietà che ha. Esatto, reddito e patrimonio. Quindi uno potrebbe avere tre case che gli sono state date in eredità, quello fa parte del potenziale economico. Esatto, se una persona dovesse avere una casa di proprietà sarebbe obbligata comunque ad uscire dall'alloggio dell'Ater. Però ci sono persone che posseggono, ad esempio, box auto piuttosto che cantine. Quindi anche questo rientra poi nel calcolo del canone d'affitto. In questo calcolo siete in linea con quelle che erano le vostre aspettative? Sì, sì, siamo assolutamente in linea, soprattutto con gli obiettivi della legge regionale. Inizialmente, in prima battuta, quando è entrata in vigore la legge, dovevano uscire dalle case Ater 309 famiglie. Attualmente devono uscire 69 famiglie. In realtà abbiamo visto che di queste famiglie che sono uscite, solamente 9 superavano l'Ise dei 35 mila euro. Gli altri sono usciti probabilmente perché l'affitto era diventato troppo alto e poco concorrenziale rispetto agli affitti di mercato. Perché man mano ci si avvicina al limite Ise, più cresce l'affitto. Sì, arrivando a quelli che sono i canoni normali, come mi pare anche abbastanza giusto. E nonostante i canoni siano aumentati, noi abbiamo visto che il canone medio è diminuito di 10 euro. Quindi questo significa che effettivamente abbiamo dato risposte a quella fascia di popolazione più povera, quella che effettivamente ha più bisogno. Torniamo ancora di un'altra iniziativa che state portando avanti. A me piacciono molto i concorsi di idee, peraltro non è la prima volta che voi seguite questa procedura. Si invitano i professionisti a presentare dei piani, dei progetti e poi viene fatta una gara. Il progetto che vince poi verrà premiato. Lo fate per l'area ex Casa Carbone. Dov'è che si trova? Si trova a Carvarzano, vicino alla casa di riposo Maria Gazzalante. È un'area di pregio che ci consente di edificare 18 appartamenti. Quindi noi chiediamo ai professionisti che hanno voglia di partecipare a questo concorso di idee di strutturare dei progetti che per loro natura possono presentare diverse tipologie di realizzazione. Quindi chiediamo di ottimizzare l'aspetto architettonico anche nella diversa composizione degli alloggi e di privilegiare anche l'aspetto energetico, ad esempio con l'uso di nuove tecnologie però di facile gestione e se possibile anche contenere i costi. Si trova nella zona che era una volta la vecchia frazione di Carvarzano che poi si è allargata moltissimo, quindi diciamo che è il nucleo storico di questo quartiere. Ok, per prestare particolare attenzione. Noi continuiamo a parlare, il concorso di idee è già partito? No, il concorso di idee è già stato valutato dagli ordini della provincia, ora mancano alcuni documenti, dovremo fare ancora anche delle foto dall'alto con un drone. Partirà indicativamente nel mese di ottobre. Al primo classificato verranno segnati 8 mila euro, al secondo classificato 3 mila euro e al terzo classificato 2 mila euro e contiamo di terminare tutta la procedura nella primavera del 2021. Se arriva un numero congruo di elaborati avremo intenzione anche di fare una mostra. Sì, è interessante anche per vedere come si muove il pensiero tra i professionisti che sono audaci anche in modo fantasioso e gradevole. Noi abbiamo parlato di costruzione ma ovviamente c'è anche l'esistente e chi un cambio una casa sa che la manutenzione è straordinaria e soprattutto riqualificazione energetica sono da tenere da conto e voi dovete farlo su 2.100 immobili e tanto. Com'è che avete ripartito? Ve ne siete detti ogni anno ne facciamo 10, 15, 100? Sì, li abbiamo ripartiti in base a dei gradi di priorità, in base alla situazione, all'anno di costruzione e alla zona in cui sono inseriti. Che cosa intendete per riqualificazione energetica? Solitamente per riqualificazione energetica noi posiamo il cappotto, sostituiamo gli infissi e rivediamo anche tutto l'impianto termico. Noi l'ultima volta che abbiamo fatto un servizio per voi, io sono rimasto basito sul fatto che se si costruisce bene il consumo di gasolio o comunque di gas si abbatte in modo drastico. Sì, negli ultimi edifici che abbiamo costruito noi abbiamo previsto che il consumo per il riscaldamento annuo sarà di circa 300-350 euro all'anno. Compreso magari se funziona con il gas e anche l'acqua? Sì, anche il riscaldamento dell'acqua, sì. Sì, che avremo una cifra molto molto bassa. Chiudiamo con questa informazione. C'è il decreto rilancio e c'è questo famoso super bonus dal 110% che si può scalare dalle tasse. Ma una struttura come la vostra ne può godere oppure no? Noi siamo in attesa che esca la legge e nel frattempo abbiamo già fatto una ricognizione del nostro patrimonio. In particolare abbiamo valutato quegli edifici che non sono stati oggetto di rivalutazione energetica, quindi quelli costruiti tra il 1980 e il 2000, che quando sono stati costruiti ovviamente ottemperavano le leggi vigenti, però adesso sono insufficienti dal punto di vista energetico. Abbiamo individuato 70 edifici per un totale di 250 alloggi con diverse priorità. Stiamo ora facendo le stime di quanto ci può costare riqualificarli. Posso già anticipare che per quanto riguarda la sola posa del cappotto il preventivo varia dai 10 ai 15 milioni di euro. Quindi sarà una valutazione fatta con molta ponderatezza, perché è un esborso non da poco, però se arriva a questo bonus e probabilmente anche qualche altro… Ce l'auguriamo. Ve lo auguro anch'io. Abbiamo terminato, sono altri argomenti, ma abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Siamo stati con Ilegna Lento, che è la Presidente dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale, che ringrazio. E poi faccio gli auguri a lei e a tutto il suo gruppo, che poi non siete in tanti, perché voi muovete tanto lavoro, ma alla fine siete in 22, però con una mole di lavoro e di edifici come questi. Complimenti naturalmente. Grazie a voi per averci seguito e buona serata. Buona serata a tutti i telespettatori.